buongiorno belli bentornate nel mio canale vi ricordate questo vestito un vestito basico della zara costa 9 euro e 95 molto carino ci sono vari colori bene questo vestito l'ho comprato l'ho indossato solo una volta metà serata mi si è rotta la spalletta e quindi ho detto l'ho portato indietro infatti già comunque ballando mi si rialzava troppo e non mi sentivo tanto comoda allora l'ho riportato indietro perché comunque già la tipa mi ha chiesto se potevano sistemarlo e ho detto no lo volevo portarlo indietro niente mi hanno restituito i soldi e tanto che ci sono la ho detto vabbè vi faccio vedere le cosette che ci sono e mi sarebbe piaciuto trovare quel vestitino bianco vi ricordate del video precedente quello che è aperto sulla pancia che mi piaceva tantissimo che non l'ho trovato e quindi ho detto vabbè vi faccio vedere le varie cosette che ci sono ci sono varie cosette varie vestitine articoli che sono veramente molto 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 carini belli se vi piace questo video se vi piace questo genere di video se volete dei video un po particolari iscrivetevi e soprattutto lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e mi raccomando a fini video vedete che provo dei vestiti e voglio un consiglio un consiglio perché tanto ci dovevo tornare e quindi datemi una dritta va bene e spero che vi piace buona Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Non capisco Ho preso la XS Non so se devo prendere la S O la M Lo vedo Non so È bellissimo È troppo bello Ma Che pena Non mi sento comoda È bellissimo A parte la mutanda che ho Che non va affatto bene Fa sentire che sono grassa Bello ma Lo vedo molto Non so Troppo lungo Non so Fa vedere la panza Non capisco Guarda questo È una S Stra 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 Largo Deve stare un pochettino più così Per dare questo effetto Stra Largo Stra Non mi piace niente un po' Non mi piace l'effetto più fa Costa 20 euro Non mi piace l'effetto più fa troppo corto troppo corto bellissimo è bellissimo però non lo so troppo corto il mio gusto deve essere leggermente perché c'è l'apertura di qua abbastanza importante se lo facessero leggermente più lungo anche fino qua non cambierebbe nulla sarebbe comunque bello sono proprio una ragazzina io oramai mi sento scomoda mi sento scomoda che fai due passi con i tacchi già il vestito lo trovi qua non so voi cosa ne pensate allora sono venuta a questo negozio di scarpe ho trovato queste scarpette stupende ecco non è tanto alto sono indecisa l'ultimo numero e l'ultima scarpa la 39 alla fine non ho preso le scarpe ma ho comprato questo vestito della zara con 19 euro e 95 che adoro e non vedo l'ora che mi capita l'occasione per indossarlo mi piace tantissimo tanto che ci sono in questo centro commerciale sono andata a un negozio per prodotti per i capelli ricci ma ci sono varie marche che sono veramente molto interessanti per chi conosce cantù cantù io lo usavo è veramente ottima per i capelli ricci ci sono talmente tante altre marche se vi interessa vi farò un video specifico sui prodotti che ci sono sul mercato più che altro non delle grande marche ma proprio indicati delle piccole aziende per i capelli ricci che danno dei risultati favolosi ad esempio la lola io mi trovo da dio mi piace tantissimo c'è anche questa marca qua che è più economica per i capelli ricci e poi c'è questa qua che avevo provato novex costa 5 euro all'incirca